Bene, eccoci alla seconda parte, quella più avanzata, sulla guida per lo staking e per il wallet di scritta. Se non avete seguito la prima parte, vi rilascio alla prima parte introduttiva, quindi come settare, come mettere in sicurezza, come fare il backup del wallet, come scaricarlo ovviamente. E lo lascio in riferimento, in link a questo video stesso o comunque lo troverete in descrizione a questo video, anche nel finale del video. Quella parte è propedeutica per poter seguire questa seconda parte, appunto più avanzata. Qui dalla FAQ della Wikipage, che cos'è un input, come creare un input, come poter vedere appunto la size dell'input e dove posso trovare il control e gestire tutto lo staking. Allora, di cosa stiamo parlando? Prima di passare a farvelo vedere proprio in maniera pratica sul wallet, voglio farvi vedere una cosa. Andando sulla pagina principale, scriptacene.org, andando su Explorer, qui in alto, troviamo ovviamente il block Explorer di Lira. Andando nella tab Extraction, possiamo vedere quella che è la situazione dell'estrazione tramite staking, quindi della creazione di nuova moneta e nuova lira, tramite lo staking. Andando a vedere questo grafico qui, che è appunto lo stake input size per gli ultimi mille blocchi, vediamo qual è la media della grandezza degli input per poter ricevere dei reward. Allora, ovviamente per seguire questo video al meglio dovresti avere una base di come funziona lo staking, però in linea di massima voglio spiegarvi che cos'è un input. Ossia, l'input è anche chiamato UTXO, praticamente è quel blocco di lira, chiamerò blocco ma attenzione non confonderlo con un blocco della blockchain, è quell'insieme di lira che sono stati ricevuti o comunque che sono come se fossero un pacchetto di lira che sono posti come se fossero un blocchetto a parte nell'insieme di tutti i vari altri lira in staking e sono lì pronti per ricevere dei reward dallo staking, quindi praticamente sono un gruppo di lira che si pongono in attesa per la ricezione di alcuni reward. Non so se riesco a farvi passare bene il senso di questa cosa. In pratica quando voi avete dei vostri lira sul vostro wallet, facciamo finta che questi siano mille, se questi fanno parte tutti quanti di un unico input, questi mille hanno una certa probabilità di ricevere reward e quindi di generare dei reward dallo staking. Cosa succede però? Quando voi ricevete dei reward aggiuntivi, quindi facciamo esempio avete mille lira tutti in un input e ricevete una reward da tre lira che ricevete a loro volta dallo staking come nuovi lira. A quel punto quei tre lira ricevuti non fanno parte dello stesso input originario di quei mille, ma sono tre lira in un gruppetto separato. Quindi quei tre hanno una probabilità molto più bassa di ricevere nuovi reward e non vanno a sommarsi all'altro. E come fare per creare un unico input? È proprio quello che voglio farvi vedere oggi. Questo grafico serve a farci capire qual è la probabilità di ricevere, qual è il numero da dover avere in questi gruppetti per poter avere una buona probabilità di ricevere dei reward. Lo troviamo esattamente nella media. Questi pallini blu sono quei gruppetti, quegli input che hanno ricevuto dei reward e vediamo che la media si assesta, tutti quanti si addensano su questo livello qui in alto e più o meno è sui 1600 lira per input. Poi qui in basso troviamo degli input molto piccoli, da grandezza ad esempio 7, guarda caso sono proprio quelli dei reward, per esempio dei masternode quando riceviamo 7 lira, che con fortuna hanno ricevuto dei reward con un input così piccolo. Ma se vediamo sono dei casi isolati, la media si assesta sui 1600. Questo andrebbe ricontrollato, quindi che vuol dire? Per avere una buona probabilità di ricevere reward dovremmo creare degli input dei pacchetti di circa 1600. Ovviamente se andiamo sui 2000 o sui 3000 abbiamo più probabilità di ricevere reward, però magari appunto ci serve un pacchetto, un input un pochino più grande. Allora come fare a riorganizzare questi input? Andiamo a vederlo direttamente nel nostro wallet. Andando nel nostro wallet scritta e andando su invia troviamo coin control features e qui c'è inputs. In realtà questa voce non è settata di default nel nostro wallet. Per poterla vedere dovremmo andare in preferenze del nostro wallet e andare in wallet, in options, nelle opzioni. E qui bisogna fare enable coin control features, quindi dal menu generale andate in settings o preferenze o preferences e settare enable control features qui sul tab wallet delle opzioni. Una volta che avete abilitato questa opzione qui vedrete come lo vedo io qui in invia coin control features e c'è inputs. A questo punto andiamo a vedere cosa c'è in inputs. Qui ho tutto l'ammontare dei miei lira al momento nel wallet. Al momento sono 16.394. Perché? Perché io ho creato, collegato a questo wallet, un masternode in cloud. In più ricevo dei reward da masternode e ricevo dei reward dallo staking. È tutto qui in questo wallet qui. Però se andiamo qui, io vi consiglio di selezionare modalità albero o tree, potete vedere che i blocchi o gli input di cui vi parlavo sono tutti separati. Ossia ho questi 15.000 che vengono appunto dal masternode al momento non li posso toccare. Poi ho tutta una serie di altri input, tutti da 7 e da input minori, che sono tutti quanti, diciamo, separati l'uno all'altro e danno priorità per ricevere dei reward tutte diverse. Quindi a questo punto che cosa vado a fare? La mia idea è quella. Siccome questi hanno tutte probabilità molto bassa, sono tanti, ma tutti da probabilità bassa di ricevere il reward non staking, li vado a selezionare tutti quanti, li vado ad inviare al mio stesso indirizzo per creare un blocco unico, un unico input, un unico UTXO. Quindi li seleziono tutti, tranne ovviamente quello del masternode. Tra l'altro c'è il tasto direttamente select and select all oppure potete selezionare dei blocchi diversi. In questo caso mi conviene selezionare tutti in questo modo qui. Adesso che cosa bisogna fare? Selezionando tutti questi piccoli input, l'after fee, ossia la somma totale dopo le commissioni è 1394. Adesso con il tasto destro andate a selezionare questa parte qui e fate copy after fee. Lo copiate questo numero qui e andate su ok. A questo punto abbiamo questo after fee, anche qui potrebbe essere copiato direttamente da qui. Adesso l'idea è quella di inviare questo quantitativo qui al nostro stesso indirizzo. Quindi che cosa andiamo a fare? Qui in pay2 andiamo a mettere il nostro indirizzo. Ne copiate uno dei vostri indirizzi. Appunto andate a prendere l'after fee. Adesso l'ho perso nella copia. Andate a mettere qui. Ovviamente lasciate lira. In questo input qui andate a mettere quanti numeri di input in questa field, quanti input volete avere. Quindi quanti UTXO nuovi volete creare. Mettete uno solo, creare un unico blocco. Con la size da 1394 in questo caso. Quindi dal totale dell'after fee. E andate a fare send. Un invio a voi stessi. Inserire la vostra parola ordine senza selezionare questa voce. Come se fosse un normale invio. Andate a confermare. A questo punto nel riepilogo vedete che il totale è rimasto ovviamente invariato. Andiamo adesso a controllare quello che è successo in inputs. In inputs, se vedete, se andiamo adesso a ricontrollare, troveremo che abbiamo un input, quello che avevo prima, semplicemente perché avevo un master note e quindi questo input bloccato è rimasto così. E poi ne ho creato un altro nuovo dove ho addensato tutti i 1394 lira che avevo in un unico UTXO. Con questo processo voi potete fare ogni volta che ne ricevete, potete agglomerare i vostri input per avere pacchetti, diciamo così chiamati, con probabilità più alta di poter ricevere dei reward da staking. Potete anche decidere di bloccare un determinato input. Quindi, ad esempio, possiamo bloccare un input e non permettere di dividerlo. Perché? Perché possiamo anche fare il processo contrario, quello di splittare questi input. Qual è il caso d'uso di voler bloccare, diciamo, un input? Magari ci stiamo conservando dei lira per poter creare un master note e quindi vogliamo avere, ad esempio, 15.000 lira in un unico input e nel caso in cui inviassimo dei lira a un altro wallet potremmo, diciamo, disturbare e rompere quell'input. Prendere alcuni lira da quell'input stesso. Ecco, bloccandolo, bloccandolo in questo modo, questo non sarebbe possibile. Quindi c'è una feature aggiuntiva. In più, in questo modo, non andremo magari a fare staking su degli input per i quali non vogliamo questo sia fatto. Insomma, un'altra opzione che si ha. In tutto ciò, so che questa fase non è proprio la più intuitiva. Comunque vi rilascio a tutte le informazioni che trovate in descrizione a questo video stesso, sia per vedere la FAQ, sia per vedere il Block Explorer, per avere tutta la guida. Se invece partite dalla base, vi consiglio comunque di guardare il video introduttivo. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.